Un altro caso di violenza sulle donne, sta spicchiato in strada per avere difeso una ragazza da una violenza. Ci troviamo di fronte ad unnesimo caso di violenza femminile, una di quelle violenze che vedono la forza dell'uomo scagliarsi contro l'esile corpo di una donna in difesa. Ad assistere ad una scena di violenza, questa volta, è stato proprio Stash, il cantante dei Tecolors, che in preda all'adrenalina si è scagliato contro un uomo che stava picchiando la propria compagna per chissà quale motivo. Una rissa, dunque, nella quale il giovane cantante è riuscito a portare in salvo la giovane ragazza rischiando di finire in ospedale. Da una foto pubblicata da lui stesso sul profilo Facebook è possibile osservare attentamente i segni della colluttazione, un occhio quasi nero, una maglietta strappata e le labbra gonfie per i colpi che i due si sono scambiati. Ha tentennato molto prima di pubblicare la fotografia su social, come lo stesso Stash ha descritto nel suo post, ma alla fine ha deciso di non tacere di fronte a questa ingiustizia e di metterci la faccia con tutte le conseguenze che potrebbero seguire. Stash pieno di lividi per salvare una ragazza, il racconto. Sul profilo ufficiale del cantante è possibile leggere qualche riga in cui lo stesso Stash descrive brevemente quanto accaduto nei precedenti giorni. Ero molto indeciso sul fatto di pubblicare o meno questa fotografia, ma ho deciso di parlare ed evitare di tacere, dice il cantante iniziando così il racconto. Una serata di risate e divertimento con gli amici si è trasformata in una rissa quando ho sentito un uomo ed una ragazza litigare, continua il ragazzo, non sono intervenuto fino a quando lui non gli ha dato uno schiaffo così forte da farle girare la testa raccontando brevemente quanto accaduto. Secondo la sua versione dei fatti, quest'uomo stava discutendo con la propria compagna e le ha dato un violento schiaffo sul viso affermando di essere libero di fare quello che gli pare. L'atteggiamento del molestatore ha spinto Stash ad intervenire, creando così una vera e propria rissa in cui puni o schiaffi sembravano averla da padrone. La situazione alla fine si è placata e la ragazza è stata salvata da altre probabili botte, lasciando il tempo al cantate di riflettere su quanto accaduto e di scrivere qualche semplice parola. Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente. Queste le parole finali di quella nota, con la quale il ragazzo denuncia l'intera faccenda.